Buongiorno a tutti, buona martedì mattina, benvenuti alla rassegna stampa di Udinews TV, il primo appuntamento con l'informazione di giornata del nostro canale. Come sempre diamo un'occhiata ai giornali, alle notizie fresche di giornata, con le prime pagine nazionali, con i quotidiani locali, ma anche con i nostri collegamenti, con le previsioni del tempo, con la polizia municipale e con i nostri collegamenti in esterna, nella seconda parte, quella dedicata allo sport. Intanto vediamo come è iniziata la giornata quest'oggi, qui siamo a Cividale, e anche oggi una giornata purtroppo non bella dal punto di vista meteorologico, con la pioggia che è caduta copiosa anche durante la notte, anche quest'oggi, questa mattina, il nostro territorio non si è svegliato sotto il sole. Poi chiederemo allo Smerarpa verso le 8 quando sarà previsto un miglioramento. Qui siamo nella Pedemontana, vediamo le montagne proprio ancora innevate, qui invece siamo a Tarvisio, dove continua evidentemente a piovere, una situazione sicuramente non piacevole, visti i tanti giorni di pioggia uno di seguito all'altro. Ma facciamo il punto sulla giornata di oggi insieme all'Onora Noce. Il meteo è offerto da... La Proloco Turrida presenta la 38esima edizione della Sagre Dai Cais. Scopri gli appuntamenti di giugno in programma nel Parco sul Tagliamento sulla pagina Facebook ufficiale Sagre Dai Cais. Ben ritrovati con le previsioni meteo per il friù di Venezia Giulia di martedì 21 maggio. Cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse intermittenti, la moderate a localmente abbondanti, probabilmente più diffuse di mattina. Possibile qualche rovescio temporalesco. Le temperature. Sulla costa 13-15 gradi di minima, 15-17 gradi di massima. In pianura 11-13 gradi di minima, 15-18 gradi di massima. A 1000 metri 9 gradi e a 2000 metri 3 gradi. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Il meteo è stato offerto da... La Proloco Turrida presenta la 38esima edizione della Sagre Dai Cais. Scopri gli appuntamenti di giugno in programma nel Parco sul Tagliamento sulla pagina Facebook ufficiale Sagre Dai Cais. Allora abbiamo visto la situazione un po' peggio sul collinare in montagna, meglio sulla costa. Adesso andiamo a vedere l'autostrada che in questi giorni sta attraversando qualche difficoltà vista la pressione dei veicoli che arrivano dall'est Europa e dall'estero. Qui siamo appunto sul sito infaviaggiando.it di Autovie Venete. Lo vedete a 4.23 per il momento sgombre. Non ci sono problemi di sorta. Il martedì è sempre una giornata un po' delicata su questo fronte. Andiamo a vedere le prime pagine di quest'oggi in primo piano. Anzi, andiamo subito a vedere intanto il sito aggiornato del Corriere.it perché c'è un'ultima ora della notte, ovvero l'addio a Niki Lauda che è morto a 70 anni in Svizzera. Il pilota austriaco dopo una lunga malattia si è spento vicino ai suoi cari. Proprio la famiglia ha mandato un comunicato stampa alle testate giornalistiche per raccontare della scomparsa del pilota nato a Vienna e tre volte campione del mondo. Questo è quello che è accaduto nelle ultime ore che appunto non troviamo ancora sulle prime pagine di quest'oggi. Quello che troviamo invece è lo scontro fra Conte e Salvini sul DL Sicurezza. Lo troviamo in apertura del Corriere della Sera con appunto le difficoltà d'intesa fra il Premier e il Ministro dell'Interno. Criticità nel decreto segnalato dal Colle, dice Conte, riguardo al decreto sicurezza. L'ira di Salvini e poi il rinvio. Il Corriere firma, scusate, titola, duello finale sulla sicurezza. Scontro in Consiglio dei Ministri nella notte, slittano anche le norme sulla famiglia voluta dal Movimento 5 Stelle. Duro scontro e quindi è stata rinviata la decisione. Le retroscena sono anche i timori della Chiesa e poi i 5 Stelle sono dei trasformisti, così dice Nicola Zingaretti, segretario del PD. Poi Gian Antonio Stella racconta le sfuriate di Bossi contro il Papa e i rapporti tesi spesso fra Lega e Vaticano che difficilmente sono andati d'amore e d'accordo. L'editoriale riguarda l'Europa, le elezioni, le cose da fare, l'Europa abbia coraggio e poi i controlli alla Tour Eiffaire ben fatti da uno scalatore che ha provato a scalare la torre a Parigi. Sono state ore di apprensione, è salito e ha minacciato il suicidio, poi è stato salvato dai soccorritori. e si è rassegnato. Nella foto di centropagina andiamo in Puglia con il corriere, vista dell'elicottero, l'avanzata della malattia che uccide le piante. Ecco qua, gli oliveti pugliesi attaccati dalla xylella nel perimetro rosso, le piante che da verde sono diventate marrone. Questo è l'effetto della xylella in Puglia sugli olivi, sta svanendo il verde. L'avanzata fa paura. Questa è la foto del ministro delle politiche agricole che ha fatto un sopralluogo ieri. In cinque anni sarà raggiunta l'intera Puglia. Poi in America, tagli a Huawei, siamo affidabili. Gli Stati Uniti mentono, continua il duello fra Stati Uniti e Cina su i telefoni e le tecnologie Huawei. E poi negli Stati Uniti l'afroamericano più ricco dice pagherò io i vostri debiti. Robert Smith ha detto così ai quasi 400 neolaureati in Georgia e pagherà ben 15 milioni di dollari. Questa è la prima del Corriere. Andiamo a vedere anche la Repubblica che titola in maniera eloquente Capolinea Italia. L'alleanza giallo-verde a fine corsa. In verità di questa crisi e di questa situazione si è parlato già ormai da molto tempo. Ma il governo evidentemente non vuole cedere. Quasi tre mesi di immobilismo a Giorgetti Duro con il Movimento 5 Stelle dopo il voto deve cambiare tutto. Conte alla Lega, grave dubitare della mia imparzialità. In Consiglio dei Ministri è scontro su migranti e sicurezza. In Vaticano sono sempre più le voci contro Salvini. Il Papa lancia un sinodo su fede, politica e impegno. Nel centro pagina il reportage delle ragazze sudanesi che si battono da mesi per la democrazia hanno cacciato il dittatore Bashir e adesso sfidano i militari. Vediamo anche in taglio laterale, si parla ancora di Trump e Google che firmano il patto contro Huawei, un pezzo firmato dal corrispondente americano Federico Rampini e poi ovviamente il punto e le idee sul governo e sul futuro delle decisioni prese da Salvini e Di Maio. In taglio più basso invece vediamo Thomas Harris da Hannibal Passo ai Narcos l'intervista di uno scrittore che ha creato alcuni dei personaggi più spaventosi della letteratura e poi l'incubo spoiler. Quanti trucchi per non sapere la fine del trono? Ovviamente si parla del trono di spade e della serie che sta tenuto molti attaccati alla poltrona. Andiamo a vedere sul Sole 24 Ore qual è l'apertura dedicata proprio alla guerra fra Stati Uniti e Cina su Huawei, la guerra dei chip si titola sul Sole, lo stop di Google al sistema Android per i cinesi e le accuse di mentire da parte proprio del Presidente di Huawei su quelle che sono le accuse che vengono rivolte al colosso cinese. è uno scontro senza fondamenti, il problema è soltanto geopolitico, dice il Presidente italiano ma cosa cambierà per gli utenti? L'impatto della decisione sui prodotti del colosso cinese sono gli approfondimenti sul tema del Sole 24 Ore. Nel centro pagina invece si parla di ambiente con gli inceneritori meno tasse per 700 milioni. poi anche qui si torna sull'ardomento dedicato alle forme di risparmio ma soprattutto le forme di gestione dei rifiuti un problema sempre più attuale, sempre più ingente viste le grandi quantità prodotte. Sì del Consiglio dei Ministri, Mazzotta, Ragioniere Generale, Zaffarana alla GDF arrivano le nomine e poi ancora Confindustria, Europa, Lavoro e Cantieri nell'agenda per crescere dice Boccia poi si parla anche di Europa al voto, la scadenza elettorale, un secondo referendum su Brexit questo ovviamente a Londra e qui siamo sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere anche Libero il giornale, partiamo proprio da Libero, potere legislativo succube della giustizia i giudici sbranano la politica, non solo inchieste, le toghe ormai vogliono sostituirsi agli elettori dal popolo per imporre le loro idee, dai migranti alla sicurezza fino alle adozioni gay, che cosa serve? Allora votare, poi foto di centropagina, la chiesa ma gli immigrati ma ignora i nostri clochard foto che riguardano persone in difficoltà a San Pietro e dice Libero che non inteneriscono le lemosiniere e poi invece in taglio più basso Fiorello si scaglia contro la Repubblica, accuse il giornale di non dire la verità anche qui lo spettacolo si interessa di politica e anche di editoria, almeno così dice Libero doppia truffa elettorale invece il titolo di apertura del giornale sanno solo litigare, i gialloverdi inscenano l'ultimo show il decreto famiglie senza coperture e sulla costituzionalità del decreto sicurezza e scontro Conte Salvini Berlusconi avvisa la Meloni, teme di non superare il 4%, poi sempre spettacolo e politica insieme Fiorello attacca Repubblica, svela le manovre sulla RAI, trattativa sul suo ritorno in televisione e poi il pugno chiuso da Fazio di Eter Parisi, da Cicala lotta comunista, Parisi una nuova leader rossa in taglio centrale si parla invece della prima guerra mondiale dei telefonini Google toglie la licenza Android a Huawei ed ecco che cosa cambia il tutto nell'ambito dello scontro sui dazi fra Stati Uniti e Cina il fatto quotidiano ovviamente in apertura, Movimento 5 Stelle e Premier che sfida la Lega sfiduciatemi ora ma è stop al DL Sicurezza, consiglio di guerra si legge in apertura sul fatto la risposta a Giorgetti e poi si parla di striscioni dopo i fatti di Palermo per di Salvini il fatto lancia il concorso del miglior striscione inviateci gli slogan più spiritosi, qui vediamo uno slogan chiaramente milanese Salvini vaccia pirate, lenzuoli appunto a Napoli e a Milano in taglio centrale invece il PD in Umbria, farsa continua, la Marini si dimette di nuovo dopo aver votato per salvarsi arriva l'addio dietro il caos le manovre renziane e intanto Google scarica Huawei e milioni di utenti finiscono nei guai dopo l'ordine di Trump andiamo a vedere anche la stampa, Salvini si prepara alla crisi il titolo di apertura con in forse il viaggio a Washington flat tax e autonomia, banco di prova, l'ira di Conte, è grave dubitare di me in centro pagina l'addio al trono di spade, i fan però chiedono un finale diverso per la saga che evidentemente ha coinvolto tantissimi spettatori andiamo a vedere anche il manifesto, poi ci spostiamo sui quotidiani locali la rabbia di Genova è il titolo di apertura di quest'oggi la nave militare saudita carica di armi attracca Genova ma resta bloccata dallo sciopero dei camalli e della protesta dei pacifisti partita dagli Stati Uniti diretta a Jedda contestata in mezza Europa doveva caricare generatori da impiegare nella guerra che infuria in Yemen e qui la foto della nave militare saudita Bari-Yambu in taglio alto invece il buco nero del decreto sicurezza bis caos in consiglio dei ministri sulle norme antimigranti di Salvini e Conte dice, fa acqua da tutte le parti intanto arriva anche la scomunica del mondo cattolico Trump e Google intanto bannano Huawei e Madrid si appresta al voto questa la prima pagina del manifesto andiamo a vedere anche i quotidiani locali cominciando dal gazzettino per scoprire quali sono le notizie più vicine a noi e si apre con i timori che si sono verificati ieri in regione in particolare sulla tratta Udile-Gorizia per una parte di un convoglio che ha continuato a percorrere i binari ferroviari senza un controllo vediamo appunto l'apertura del gazzettino sei vagoni senza controllo panico sulla tratta Udile-Gorizia dalla stazione del capoluogo si sono mossi per il terreno in discesa hanno corso per 20 chilometri molto probabilmente non erano stati bloccati è stata sospesa per ore la circolazione dei treni la procura intanto apre un'inchiesta e poi caccia per trovare posti ai migranti richiesta anche la disponibilità di due case di riposo una ha già chiuso le porte si parla ancora del bando emesso dalla prefettura per individuare 250 posti in alloggi dopo che il precedente era scaduto è caccia quindi a potenziali sistemazioni il bando vale quasi 2 milioni e mezzo di euro e un altro bando invece riguarda la cittadella della sicurezza per aggiudicarsi l'appalto della caserma Cavarzerani che avrà un destino diverso rispetto a quest'oggi sono in 10 in centro pagina si parla del castello di Colloredo che riavrà appunto una parte interna riqualificata e adeguata alle nuove esigenze tra 4 anni sarà completamente ristrutturato è una delle ultime opere che danneggiate dal terremoto attendono di venire recuperate completamente con la sua riqualificazione sarà terminato anche l'ultima opera ancora in costruzione poi la terza corsia con i lavori il record di incidenti si parla dei dati diffusi ieri da Autovie Venete e poi non andate a votare bufera sul PD nella bassa su un volantino del circolo di Rivignano Teor in cui in buona sostanza le istruzioni per l'uso per chi volesse non votare alle elezioni comunali a rendere pubblico il volantino è stato lo stesso sindaco uscente Mario Anzi e a proposito di elezioni negli scorsi giorni abbiamo iniziato a presentarvi tutti i candidati sindaco dei vari paesi delle varie cittadine del nostro territorio che andranno al voto il 26 maggio ieri vi abbiamo raccontato le proposte dei sindaci di Pozzuolo allora ve le riproponiamo Pozzuolo ha bisogno di un'amministrazione efficiente e capace questo è il motivo per cui io mi sono candidato assieme agli amici della Lega e del centro-destra che mi sostengono in questa campagna elettorale Pozzuolo è rimasta un po' indietro in questi ultimi dieci anni in diverse cose soprattutto nelle infrastrutture e nella viabilità come infrastrutture siamo carenti soprattutto sulle fognature dove il capoluogo è completamente sprovvisto e diverse altre frazioni non sono al completo quindi noi ci candidiamo come amministrazione del fare vogliamo risolvere diversi problemi di questa amministrazione e soprattutto vorremmo dare un'impronta del fare della positività che si può ottenere dei risultati lavorando seriamente la squadra sono molto capaci e competenti la lista che mi sostiene è Prospettiva Comune Prospettiva Comune è una lista autenticamente civica che si presenta per la quarta volta a Pozzuolo dei Friuli e si propone un programma amministrativo che noi riteniamo serio, concreto e in sintonia con l'esperienza maturata dell'amministrazione comunale uscente guidata dal sindaco Turello che tra l'altro sarà il nostro capolista in vista delle prossime elezioni comunali del 26 maggio Prospettiva Comune ha una caratteristica che è formata da 16 persone, 8 uomini e 8 donne novità assoluta per quanto riguarda la comunità locale devo dire che mi candido per un motivo semplice più di tutto perché credo di aver maturato tutti questi anni una esperienza notevole in tutti gli incarichi che ho svolto mi candido perché credo di possedere le giuste dosi di immigrazione in una società complessa come l'attuale teniamo presente che Pozzuolo è costituita da 6 paesi mi candido perché voglio essere riduta al mio territorio un territorio complesso Dopo dieci anni di vice sindaco ho ritenuto doveroso mettermi a disposizione per portare avanti i progetti che abbiamo fatto in questi anni e per realizzare i punti del nostro programma elettorale due sono gli obiettivi principali dare all'amministrazione comunale una guida sicura e oggi amministrare non è affatto semplice richiede competenze, richiede buon senso, capacità di mediazione, di studio e di programmazione credo che sono doti della nostra squadra il secondo obiettivo è portare avanti un gruppo di lavoro che è stato costruito attorno a 7 amministratori uscenti di maggioranza un gruppo che porta competenze e capacità professionali ma soprattutto porta una buona dose di rinnovamento credo che questo gruppo sia a disposizione della nostra comunità in modo sereno, in modo capace e assolutamente con la disponibilità a dare il massimo impegno per il posto del Friuli per creare un comune ancora più significativo dal punto di vista sociale della vivibilità Torniamo sul gazzettino, torniamo sulla prima pagina in taglio alto, vediamo la Mitteleuropa Orchestra sono in 50 senza lavoro è scoppiata la polemica per le decisioni della regione ma è polemica anche per il via, ai lavori in via Aquileia una decisione che è stata comunicata di cui si è discusso ieri con un'assemblea cittadina molto partecipata qui c'era anche il Confcommercio proprio i commercianti hanno avanzato delle perplessità riguardo a questa scelta di continuare a puntare sul cantiere estivo nonostante la concomitanza con Euro Under 21 andiamo a vedere anche in taglio più basso un'altra decisione della Giunta Comunale che ieri ha dato il primo ok al piano per riqualificare Casa Cavazzini un'idea che c'era da quando l'amministrazione si è installata per gestire meglio l'illuminazione e anche i sistemi di climatizzazione e rendere il Museo di Arte Moderna davvero fruibile anche per le grandi mostre apriamo intanto il gazzettino e vediamo le prime pagine con il castello di Coloredo che sarà terminato fra quattro anni ma soprattutto la cronaca con sei vagoni senza controllo e la rabbia dei pendolari quello che è accaduto ieri i carri merci si sarebbero messi in moto da soli e da Udine hanno raggiunto la provincia di Gorizia la circolazione è rimasta bloccata per quasi tre ore appunto mancano informazioni e questa mattina torneremo proprio su questo argomento in uno dei nostri collegamenti in esterna nella seconda parte del nostro notiziario andiamo a vedere anche la prima pagina del piccolo con la battaglia in vista delle amministrative del contratto integrativo aperto il confronto fra sindacati e l'amministrazione municipale in palio circa 6.000 euro all'anno per ognuno dei 2.500 dipendenti a disposizione 14 milioni di euro giovedì ci sarà un'assemblea generale la battaglia riguarda i dipendenti del comune e l'amministrazione stessa riguardo ai premi di secondo livello e ieri ha fatto molto scalpore la dichiarazione dello scienziato Mauro Giacca il direttore dell'ICGEB uno degli istituti scientifici più prestigiosi presenti a Trieste un congedo polemico il suo dice a Trieste la politica è sorda lo scienziato triestino prima di salutare si è levato più di un sasso dalla scarpa accusando la politica locale di inerzia e la città di essere sostanzialmente disinteressata alla presenza dei centri scientifici d'eccellenza che ci sono ma si vedono troppo poco un tema di lungo corso per il professore che lascia l'ICGEB per andare a fare ricerca al King's College di Londra il sasso fa rumore ma nell'ambiente non ha raccolto adesioni entusiastiche anche perché l'ICGEB negli ultimi anni aveva chiesto di trasferirsi al Porto Vecchio ma questa autorizzazione non è mai arrivata andiamo a vedere anche la prima del messaggero Veneto la folle corsa dei vagoni staccati è il titolo di apertura sei carrozze merci si sono sganciate hanno percorso una trentina di chilometri sono state cancellate tre corse regionali questo appunto è accaduto sulla linea Udine-Gorizia poi si parla ancora dell'orchestra fecero una legge ad hoc dice l'assessore Tiziana Gibelli si prende di mira Torrenti e dice fu una legge creata appositamente per legittimare e pagare l'orchestra regionale poi la foto di centropagina è dedicata all'impronta di un dinosauro ritrovata a Polcenigo una scoperta fatta da un abitante della zona che in mezzo al bosco sopra le ultime case di Mezzomonte si è imbattuto in un eccezionale reperto risalente probabilmente al triassico la zampa di un dinosauro ha modellato un grande masso rotolato dall'alto in mezzo ai faggi poi si parla delle api si usano meno pesticidi è in calo la moria di api e poi l'accoglienza riguardo ai migranti Fontanini precisa Udine non deve più ospitare 350 profughi un taglio più alto invece anche il ministro chiede giustizia per Elisa Valent dopo l'ennesima archiviazione dell'incidente in Spagna e Pizzimenti dice dati e cifre smentiscono Santoro si parla di uno scontro tutto politico andiamo a vedere anche l'apertura del messaggero Gibelli contro Torrenti norma ad hoc per garantire gli 800 mila euro all'orchestra l'assessore attacca il predecessore soldi gestiti da un'associazione privata entro l'estate sarà operativa una nuova realtà ho deciso di chiuderla dopo aver letto il dossier di Palmanova e sentito due ex presidenti la Gibelli spiega la sua scelta la sua presa di posizione e riguardo anche alle cifre che sono state rese note ieri per i pagamenti della orchestra le repliche vogliono precisare alcune retribuzioni ad esempio l'addetto stampa non ha mai percepito i 28 mila euro l'hanno indicati alla voce costo dell'addetto alla comunicazione nel dossier presentato in regione dal sindaco di Palmanova intanto CGL e Will chiedono a Fedriga di tutelare i lavoratori e andando sempre avanti sulle pagine del messaggero ci spostiamo sulle pagine della regione con i dati che riguardano l'arnesima archiviazione del caso di Elisa Valentin Spagna il ministro è a fianco delle famiglie un'archiviazione inaccettabile dice Bussetti su Facebook vogliamo sapere cos'è successo la mamma di Elisa Valentin ringrazia poi il caso delle mail dell'iPad di Maria Grazia Santoro che sta tenendo banco in questi giorni poi usati meno pesticidi morì a di api in calo tesa la mano ai coltivatori per seppellire l'ascia di guerra Capponi dice convergere su un'agricoltura sostenibile anche noi ne abbiamo parlato ieri gli alveari sembrano in salute in questo periodo della stagione con appunto dati positivi che riguardano proprio lo stop ai pesticidi orma di dinosauro sulla montagna Polcenigo un pensionato ha rinvenuto un sasso con l'incavo di un animale fatto risalire al triassico la soprintendenza ha confermato e qui vediamo l'immagine che è abbastanza chiara che appunto ha avuto già una prima analisi e una prima conferma nella pagina economica il gigante delle gru la nuova sfida il gruppo Danieli per Arcelor Mittal un macchinario da 2400 tonnellate alto 90 metri è operativo adesso nel porto di Gand andiamo a vedere la pagina anche di Udine con meno incassi e tanti disagi diminuiteci le tasse le molte preoccupazioni in vista dei lavori in via Aquileia anche quella legata al passaggio dei mezzi pubblici intervento ultimatum l'autobus è necessario l'autobus infatti verrà spostato in via Ungheria i lavori cominciano il 10 giugno e per Friuli Doc completati due terzi di strada anche noi abbiamo fatto alcune interviste seguito questa affollata assemblea ne abbiamo parlato con il vice sindaco ma anche con il presidente di Confcommercio sentiamo l'amministrazione comunale ha deciso di incontrare i cittadini per spiegare i termini del cantiere di via Aquileia vice sindaco Michelini che cosa racconterà loro oltre alla partenza del 10 giugno che avete già confermato perché è inevitabile che un lavoro di quelle dimensioni di quelle tipologie possa portare qualche problema magari durante i sei mesi veramente sarebbero cinque mesi forse anche meno di lavori si parla di tre lotti si si parla all'inizio si parlava di due lotti principali adesso siamo arrivati a tre lotti perché forse facendo così riusciamo a chiudere in tempo per Friuli Doc almeno uno sicuro e se tutto va bene anche due verrà chiuso al traffico degli autos e verranno girate tutte le linee su Via Lungheria Via Lungheria che di per sé comunque è un tratto pericoloso ma cercheremo in qualche maniera anche di fare un esperimento per trattare un eventuale trasporto pubblico locale da Via Aquileia a Via Lungheria per poi proseguire lungo Piazza Patriarcato e arrivare in Piazza Primo Maggio sicuramente questa è una scelta che va in alternativa al percorso che adesso prevede Via Aquileia Via Vittorio Veneto e Via Mercato Vecchio può essere usato a questo momento anche come fase sperimentale come mai non si è magari aspettato la fine degli europei under 21 per dire la verità io ho cercato di correre il più possibile per arrivare il più presto possibile e chiudere il più presto possibile non ho anche guardato sinceramente la partenza degli europei perché quello che era importante era partire con i lavori sicuramente c'è un po' di preoccupazione e non solo anche perché quando si avvia un cantiere così importante sicuramente in quella via ma anche poi il futuro cantiere molto importante di Via Mercato Vecchio sarà un problema per i nostri associati ma per tutti i negozianti i commercianti i pubblici esercizi sono cose che bisogna fare però saranno problemi per i nostri associati per i nostri commercianti c'è poi anche il fattore Euro Under 21 e forse molti avrebbero auspicato la partenza dei lavori dopo il primo luglio per permettere poi anche i tanti appuntamenti che si stanno costruendo Sì, di fatti anche stamattina eravamo in riunione proprio per pianificare quelli che sono gli appuntamenti delle quattro date che abbiamo degli europei Under 21 Sì, è un problema anche questo perché magari si poteva spostare di qualche giorno rispetto alle date che ci daranno stasera i cantieri non sarebbe stato male Si continua a parlare anche dell'accoglienza dei profughi riavviato il servizio saranno 709 tra Udine e Provincia la gestione sarà assicurata da Codes Ara con Caritas e Consorzio il Mosaico che si sono aggiudicati il bando e Fontanini promette in città non più di 350 migranti in caserma e nelle case è chiaro che altri territori se ne dovranno fare carico andiamo a vedere ancora le pagine di Cronaca Cittadina con alcuni casi denigrata e richiusa in casa tre anni e quattro mesi al marito padrone un operaio marocchino residente da tempo in Friuli che dovrà anche risarcirla e poi violenza sulle donne una denuncia ogni due giorni l'anno scorso decine e decine di casi in Friuli e anche sei arresti poi molte liti in famiglia ve ne abbiamo parlato anche noi ieri ha sferrato un pugno in faccia alla madre poi picchiato la sorella con la scopa ma anche altri litigi sempre fra genitori e figli poi i sei vagoni impazziti staccati dalla motrice una folle corsa da Udine a Capriva tre ore con il fiato sospeso sulla linea ferroviaria regionale a Gorizia i passeggeri sono stati invitati a scendere dai treni sei vagoni si sono staccati dall'area merci a Udine hanno percorso senza motrice quasi 30 km si sono fermati tra Cormons e Capriva e anni fa la locomotiva sfondò un muro e rimase in bilico su via Cerraia questo sempre in stazione a Udine poi l'addio agli edili di Confartigianato Gino Stefanuti aveva 61 anni storico dirigente e capo categoria i funerali domani al Sacro Cuore verso Friuli Doc un evento in castello per ripercorrere 25 anni di storia è questo il progetto del consorzio Friuli Venezia Giulia via dei sapori andiamo a vedere anche la cronaca di provincia con ancora le sfide amministrative a Tolmezzo a Verzegni se a Forni di sotto con i tanti contendenti che cercano di fare le loro proposte in vista del voto poi due storie positive di migranti che si sono integrati i due richiedenti asilo pakistani che hanno trovato impiego anche con l'accordo della prefettura uno in carrozzeria e l'altro in pizzeria poi invece a Gemona l'addio a Seravalli il riferimento per parrocchia e protezione civile ma ancora un privato per la gestione del castello di Colloredo e in taglio più alto la Feder Campeggiatori propone il Cividalese come la nuova Toscana una proposta turistica alternativa poi Autovelox ancora in arrivo tra Napoleonica e Ferrata una delibera della giunta di Codroico prevede un bando per quasi 500 mila euro dedicato ai rilevatori di velocità poi ancora la sicurezza con i sindaci della bassa divisi sui piani di videosorveglianza i comuni più grandi chiedono nuove installazioni i piccoli invece bocciano il progetto qui siamo a Cervignano invece a San Giorgio di Nogaro ex fabbriche cantieri ospiteranno parcheggi e la nuova area verde spropriata un'area di 8300 metri quadri dal comune a Lignano invece tante disdette e stagionali a casa con un maggio molto pesante dal punto di vista delle meteo per gli operatori turistici ci fermiamo qui con questa prima parte di rassegna un attimo di pubblicità poi ritorniamo in diretta con i nostri collegamenti in esterni e la pagina sportiva fra poco spiro spiro